In occasione del 157esimo anniversario delle Capitanerie di Porto, il direttore marittimo delle Marche Donato De Carolis ha fatto visita questa mattina a Pesaro, dove si è soffermato sia sullo stato di salute che sui progressi del corpo della Guardia Costiera in questo ultimo anno. 157 anni al servizio dell'utenza con un corpo che è ancora giovane, un corpo che è pronto alle sfide future, è pronto sia nella veste di transizione digitale, in futuro ormai si sta operando affinché i servizi all'utenza del mare vengano digitalizzati, un corpo che con le nuove acquisizioni di unità si propone anche di fare rotta verso il green, le nuove prossime unità avranno la propulsione compatibile con il rispetto dell'ambiente. Un corpo che è volto verso la specializzazione, specializzazione che ci è riconosciuta in vari ambiti, anche europeo, parlo di specializzazione nel campo della sicurezza della navigazione, nel controllo di tutta l'intera filiera ittica, nel controllo ambientale. Quindi un corpo, ripeto, maturo per via dell'età, un corpo che ha saputo adattarsi al futuro e un corpo che anche in futuro saprà essere utile a tutta l'utenza del mare. L'accessibilità e l'accoglienza delle imbarcazioni legate al problema della profondità delle acque al dragaggio è un tema quanto mai attuale e delicato che necessita un'attenzione particolare. Sono operazioni che devono essere effettuate con il rispetto dell'ambiente. Benvenga, c'è una coscienza ambientale molto forte, quindi tutte le procedure sono declinate in tal senso, però sono procedure che comunque devono andare avanti perché con il dragaggio significa sicurezza di navigazione e pertanto devono essere effettuate.